La Pafoni va a caccia del record storico, non ha mai ottenuto nuove vittorie consecutive nel campionato di Serie B in terza serie nazionale. L'avversario di domani sera è di sicuro valore piombino nelle zone alte della classifica, c'è poi un'oggettiva difficoltà legata agli infortuni. Sì, però questo non ci deve condizionare, nel senso che siamo abituati, è stata una settimana complicata, però quando c'è stato bisogno di un extra effort, un extra sforzo da parte di chi gioca di solito meno, abbiamo sempre avuto risposte molto, molto positive. Sono convinte che paradossalmente per certi versi è più facile per gente che parte solitamente dalla panchina e sapere di avere un margine di errore non così ampio, perché il titolare è lì pronto a subentrare ad ogni tuo errore o comunque a due o tre errori in fila. Invece sono tranquilli e lo dimostra la nostra storia recente di quest'anno, ma anche dell'anno scorso, per cui gli infortuni non ci condizioneranno. Insomma, non ci sarà, si sa, a Milani, in fortissimo dubbio, più no, che si torgano i Simoncelli, non è una frase retorica, però la spinta in più, l'aiuto in più può davvero regalarlo il Palabattisti? Sì, certo, certo, ma lo è sempre stato, ribadisco. Anche l'anno scorso, quando in trasferta oggettivamente si faceva fatica perché avevamo parecchi problemi fisici, come quest'anno, il nostro fortino ha sempre retto, è sempre stato un aiuto importante, per cui confidiamo anche domani nel calore del nostro pubblico.